Rimaniamo a Campobasso perché mentre sono pronti i nuovi cassonetti per la raccolta differenziata nel centro storico si continua a chiedere la raccolta porta a porta. Perché è così complicato fare la raccolta dei rifiuti porta a porta nel centro storico di Campobasso? I residenti pongono la domanda all'amministrazione comunale, all'assessore all'ambiente Stefano Ramondo, rilanciando il problema che avevano già sollevato durante l'estate. Mentre sui social a molti non sono sfuggite le foto dei nuovi cassonetti che dovrebbero servire per la raccolta differenziata, ci si interroga perché si sia deciso di ignorare le precise richieste che erano partite dagli utenti. In particolare per fare fronte alle esigenze delle persone più anziane che in grande numero popolano il centro storico. Quasi un anno fa affermano i cittadini tanto di conferenza stampa e articoli di giornale da parte dei nostri amministratori per quella che doveva essere una rivoluzione con il sistema della raccolta differenziata integrata e con il sistema dell'ecostop. Ma questo sistema non ha funzionato. Dunque la maggioranza dei residenti ha incontrato oggettive difficoltà e chiede che l'assessore Ramondo riveda tale sistema, riconsiderando la possibilità di immettere il sistema della raccolta porta a porta. Anche perché non è ben chiaro agli abitanti quali siano le difficoltà che Ramondo in passato aveva ravvisato riferendosi alla mobilità. Anche il settore della mobilità affermano a un assessorato competente. Dunque che i due rappresentanti, Ramondo per l'ambiente e Pietro Maio per la mobilità, si seguono ad un tavolo e studino le soluzioni adatte alla popolazione. Del resto sono stati eletti per questo.